E bentornati sul canale Ghost Rider, spirito della vendetta, re dell'inferno Volevo soltanto precisare una piccola cosa Qui, su questo canale, sul canale Ghost Rider Televendite non ne facciamo Eh no, mi dispiace Qui parliamo solo di fumetti che ci piacciono veramente Chiaro? Se cercate televendite, televenditori Potete rivolgervi direttamente a Giorgio Mastrodo O se non trovate Giorgio Mastrodo perché è andato in feria Potete rivolgervi tranquillamente a quegli youtuber fumettosi Televenditori ufficiali Di case editrici tipo così Per fare un esempio, eh La Bugs Comics, sì, sì Potete rivolgervi tranquillamente a loro, sì, sì, sì Troverete una professionalità unica Eh, guarda Sarebbero capaci di venderti L'ultimo cartonato a colori di Samo Stern Promettendo, non so, il Il collarino di Padre Duncan Alle prime trenta telefonate Sì, 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 guarda, sono unici Poi con frasi super Eh, con frasi proprio super effetto, eh Tipo Samo Stern Ha portato una ventata d'aria fresca nelle ticole Ma quando vai? Ma chi ve l'ha detto? Vabbè, lasciamo stare Forse lo so chi ve l'ha detto Ma Lasciamo stare Comunque bravissimi, eh Sì, sì, sì Anzi Attento Mastrota, eh Perché questi ti rubano il mestiere Ti rubano, sì, sì, sì Questi ti fanno fallire Ma Mastro, eh Sarebbero capacissimi di venderti Anche come minimo L'apri bottiglie di Samo Stern Sì, sì, sì E te l'ho detto Sono bravissimi Eh Sono professionisti Sono professionisti nel settore Oh, ma con chi credi Avere a che fare? Eh Una storia banalissima Tra le più banali Che si siano mai lette Cioè la storia di Valery La classica Tipa racchia Brutta Triste Perché Le cose non ti vanno bene Te la fanno passare per il capolavoro Dei capolavori Cioè Ma di che vogliamo parlare? Ma di che cosa vogliamo parlare? Quando uno sa fare bene il suo mestiere di televenditure Eh C'è poco da dire Eh Chapeau Ci viveva all'inferno